la mia idea personale è che i giganti che sono stati trovati in tutto il mondo come quasi sempre accade e che va tenuto conto che la realtà è sempre non soltanto ciclica quindi non soltanto la natura il cosmo hanno una ciclicità che tende a riproporre determinati eventi e determinati passaggi chiamiamoli così ciclicamente ma è soprattutto una realtà che è quasi sempre sovrapponibile e quasi sempre accavallata e quasi sempre coesistente quasi sempre contemporanea ed è questo il motivo per cui noi troviamo come dire reperti fossili e quindi anche antropologici di giganti perché questo sono almeno per quanto riguarda le dimensioni che probabilmente sono molto antichi quindi di qualche milione di anni forse in alcuni casi di centinaia di migliaia di anni in altri casi di migliaia di anni ma in alcuni casi secondo me da quello che ho potuto comporre di questo scenario sono vecchi anche solo di poche centinaia di anni e in questo caso ci rifacciamo ovviamente probabilmente al concetto della gran tartaria perché fra i tanti giganti ritrovati ce ne sono alcune vestigia ci sono alcuni resti ossei che non sono così tanto antichi quanto altri quindi questa presenza come dire mega nella nostra storia nella planetologia nell'archeologia nella storia nella letteratura e nell'esoterismo nell'ermetismo e quant'altro è una storia che è lunga tanto quanto forse il pianeta terra quindi sono giganti che hanno un'appartenenza particolarmente remota di vario tipo ma ce ne sono lo ripeto a mio avviso qualcuno che tanto remoto non è e quindi probabilmente queste presenze erano coeve del nostro mondo e della nostra società anche solo qualche secolo fa perfetto il megalodonte sta allo squalo come noi stiamo ai giganti